Eh, secondo me c'è roba qua sotto qua, c'è un'altra isoletta collegata che si va lassù, vabbè dai esploriamo ste due isolette piccolissime Signor Zombo, lei è un bastardo, porca zozza, ho appena finito di che non volevo morire Ciao ragazzi, bentornati alla nostra custom map novition, the new beginning, o new beginning, insomma c'è un nome suo particolare Ben arrivati, allora nell'ultimo episodio abbiamo finito quella mappa assurda con il parkour che era la fornace divina, la forgia divina, quella roba col martello laggiù in fondo E abbiamo portato il blocco di lana nel monumento, fin qua tutto a posto Cosa vogliamo fare in questa puntata? Allora io penso che effettivamente dovrei iniziare ad aggiustarmi un po' questa base Perché fa un po' schifo e visto che abbiamo un sacco di spazio a disposizione, perché non farci una base sistemata con tanto di casetta, magazzino e tutto il resto? Secondo me potrebbe essere una buona idea Allora io avevo pensato di farmi la base esattamente qui dentro, quindi una base sotterranea Adesso infatti con il mio picconazzo inizierò a scavare qua esattamente e farò quella che sarà la zona dove praticamente noi abiteremo durante tutta questa bellissima mappa Con il lag che ci accompagna, costante, come se fosse una spina nel nostro di dietro, iniziamo a scavare questo blocco Ci vediamo tra un po'. Ok ragazzi, ho liberato un po' la zona Praticamente qua ci facciamo la nostra base, quindi andiamo su, mi sono andato a prendere un altro po' di blocchetti in giro per il mondo Ho ripiantato gli alberi qua, insomma abbiamo fatto un po' di cose Ora, lag permettendo, ci prendiamo un po' di blocchi da costruzione, quindi questi qua, così E iniziamo a fare quello che sarà la nostra base definitiva in questa mappa Porca miseria, perché voglio dire, un po' d'ordine ci vuole, altrimenti qua ci rincoglioniamo malissimo Quindi io qua praticamente, questa è una chest con della roba, mi servirà questa roba, non lo so Però intanto io qua farei una bella pavimentazione, così, molto molto velocemente Serviranno un sacco di blocchi, effettivamente non era proprio la cosa più utile del mondo da fare Però mi piaceva l'idea di farmi una base Quando troviamo delle skyblock, tipo monumento, come questa qua, è sempre carino farsi una base Insomma, customizzare un po' la zona, voglio dire Quindi continuiamo a mettere dei blocchi, facciamo sta pavimentazione L'unico peccato di questa mappa, almeno per quanto riguarda il mio computer Che purtroppo ormai penso che stia morendo fondamentalmente È il lag, un lag fastidiosissimo che non so come cacchio togliere Insomma, mi sono gironzolato la mappa, però non c'è nessun command block particolare Insomma, niente che giustifichi sto lag, se non delle costruzioni molto elaborate Potrebbe essere quello lì, il problema non lo so Intanto procediamo e chiudiamo questa zona in questo modo qua Così, ok Almeno abbiamo un po' di legno che si vede, è una roba carina Ecco, tu non dovresti assolutamente essere messo lì, perfetto Vabbè, io continuo, chiudo un attimino tutto e poi vediamo cosa è successo Ok ragazzi, sto dormendo, ho finito, cioè diciamo ho fatto qualcosa di molto carino Ecco qua la nostra base, molto semplice, molto scialla, sempre con il lag assassino Qua ci ho messo i minerali con la roba che può servire Qua ci ho messo tutti quanti i blocchi che mi sono avanzati E c'è anche l'uovo di ape, perché secondo me posso farmi una farm di api Per prendermi le boccette di miele Devo trovare come fare del vetro, però a parte quello tutto a posto Qua abbiamo la zona fornaci, zona crafting table Là c'è il lettino, insomma pure il comodino c'è uscito fuori Qua c'è sta cesta che non so che cacchio farci, ma la lascio qua Qua ho dovuto lasciare la cobblestone ragazzi, perché qua sotto c'è il generatore di cobblestone E quindi stava andando a fuoco tutto, stavo morendo malissimo E sopra ho già fatto lo spazio dove penso di mettere l'alveare Esattamente qua sotto metterò l'alveare Ho messo un po' di fiorellini che c'avevo E siamo a posto, questa è la zona cibo fondamentalmente Poi ci faremo anche qualche farm E finalmente possiamo ricominciare la partita dirigendoci da quelle parti lì Quindi ora mi vado a prendere un po' di blocchi Non mi farò un'armatura di ferro Non intendo sprecare i lingotti finché non ne trovo un po' E vediamo quello che succede Allora mi prenderò questi Ovviamente, anzi no, guarda Ma se ci vado di terra secondo me è pure meglio Tanto la terra ce n'ho un botto ragazzi, ma chi se ne frega Mi prendo ovviamente la spada Mi prenderò una secchiata d'acqua che può sempre servire E mi prenderò delle torce, ovviamente E anche questo così magari vediamo se passiamo dall'alveare Se riesco a prendermi quei pezzi che sono dentro Di cui non ricordo assolutamente il nome Prendiamoci un po' di cibo E siamo pronti per andare Mi manca qualche altra cosa Penso di no, più o meno Ok, allora andiamo a vedere che cosa c'è in quell'isoletta volante Che dovrebbe essere collegata a quell'altra isoletta In modo da qua come tavolo ci posso Aspettate, ok, di qua Così, perfetto Quindi saltelliamo felici Intanto mi vorrei andare a vedere se riesco a prendermi dall'alveare Che sta lì giù qualcosa Perché per prendere l'alveare dobbiamo avere il piccone col silk touch Che non ho Non c'ho ancora un enchanting table Non so nemmeno se valga la pena farla Visto che non ho trovato canne da zucchero e roba del genere Comunque, gironzolando magari li ho pure viste e mi sono scordato Allora, se non mi ricordo male Dovrebbe farsi così Mi ricordavo malissimo Infatti non mi ricordavo assolutamente niente Forse deve essere pieno per funzionare Io sapete che non mi ricordo come funziona l'alveare, porca miseria Qua abbiamo ancora un sacco di roba, eh, però C'è ancora roba e io non c'ho un piccone Ecco, mi ero dimenticato qualcosa Devo andarmi a fare un piccone, porca zozza Ma non è un problema, io mi butto giù, chi se ne frega Ma quelle erano delle api? Ho visto delle api, ragazzi Cioè, non ci sto credendo, ho visto delle api? Oh mio Dio, ci sono delle api Allora forse i fiori li devo mettere là Perché ho messo i fiori qua? Vabbè, non fa niente Allora facciamoci degli stichettini Prendiamo un po' di ferro Un, due, tre Perfetto Vai con la crafting table Vai, stichettini a go-go Ok, abbiamo di nuovo il piccone Quindi abbiamo capito che l'alveare non lo posso prendere con le cesoie Mi ricordavo un cacchio per un altro Però ci sono delle api Magari piano piano le api inizieranno, che ne so, a fare il miele là In ogni caso, lasciamo perdere un attimo l'alveare E andiamo a vedere quell'isoletta nuova che abbiamo appena scoperto A parte che anche qua di fronte c'è una bella isoletta Ma sapete che vi dico, quasi quasi guardo questa Mi sembra un attimino più vicina, secondo me Allora, facciamo in questo modo qua, così Ok Va bene ragazzi, ci siamo Cosa ci sarà su questo isolotto? Non ne ho la benché minima idea Porca zozza Via, 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 così Perfetto, attenzione Attenzione, sbircettiamo un attimo C'è un enderman Non penso che mi creerà troppi problemi, ragazzo Ci sono anche dei mob, per caso, qua sotto Io non ne ho proprio idea Penso di sì Sento chiaramente dei mob Anche se non li vedo Eh, secondo me c'è roba qua sotto Qua c'è un'altra isoletta collegata che si va lassù Vabbè, dai, esploriamo ste due isolette piccolissime Vediamo cosa possiamo trovare Buongiorno a tutti Allora, signor enderman, io non ti sto guardando Quindi non rompermi le balle Qua c'è uno zombie Vabbè, lo zombie è scemo Lo buttiamo subito giù E iniziamo a prenderci un po' di materiali Voglio dire, ragazzuoli Eh, un po' di oro così regalato a gratis Ferro Che ci sta sempre E dei diamanti Diamanti che non posso prendere con quel piccone schifoso di d'oro Altri diamanti Sì, che bello diamanti Io adoro i diamanti Grazie, grazie Datemi diamanti per favore Che mi servono tantissimo Che prima o poi riuscirò a farmi un'armatura di diamante Il che sarebbe una gran figata, signori Considerando come sempre che abbiamo la Kip Inventory L'armaturozza di diamanti Secondo me durerebbe un botto di tempo Quindi sfasciamo qua Prendiamo un po' di ferro Insomma, praticamente questa mappa Devi fare un po' di mining Poi devi andare in giro Poi devi rifare mining Riandare in giro E va avanti così È abbastanza carina Mi piace Cerchiamo di non cascare giù Possibilmente No, vabbè Non possiamo ancora cascare giù C'è ancora tempo C'è ancora spazio Possiamo fare quello che ci pare Ragazzi, nel mentre ero morto Non ho ben capito come Cioè, mi sono distratto un attimo E sono finito giù Evidentemente hanno zombie Ma ha spinto qualcosa del genere Comunque, vabbè Non importa Tanto abbiamo la Kip Inventory Quindi siamo di nuovo qua Ributtiamoci su st'isolotto Qua c'è un sacco d'acqua Che secondo me non serve a nulla Probabilmente Penso proprio di no E quindi la posso anche togliere Ok? Togliamo l'acqua Tanto le sorgenti d'acqua infinita Non ce le abbiamo Quindi nel caso dovesse servirci Sappiamo dove prenderla Rompiamo un po' sta roba qua Cosa ci sarà di interessante Su questo isolotto Secondo voi A parte Tutti questi minerali Non lo so Speravo in una cesta Un messaggio segreto Sai, una roba del genere Che ci dà qualche indizio in più Su quello che dobbiamo fare Però per il momento Becco solamente minerali Allora io intanto Me ne scavicchio un po' E ci vediamo Quando ho finito E c'è proprio un sacco di roba Su st'isoletta Mamma mia Sono piccoline Però ragazzi Sono piene zeppe di cose Ah che bello La soddisfazione di giocare Con queste mappe È una figata Perché c'hai sempre Quello che ti serve Sto prendendo anche il ferro In bilico ragazzi Questo lo prendo Eh non lo so mica Se lo riesco a prendere Infatti non l'ho preso Porca zozza Vabbè non fa niente Un pezzo di ferro Si può anche sacrificare Voglio dire Ci siamo fumati Un pezzo di diamante Per usare Quel piccone schifoso Cosa vuoi che sia Se perdiamo un pezzo di ferro Ok È di nuovo diamanti È diamante però Non lo devo perdere Assolutamente mai Preso Perfetto Qualcosa c'è Altro oro Altro ferro Ok direi che a minerali Siamo messi abbastanza bene Quindi possiamo anche Rifarci l'armatura di ferro A sto punto No È cascato Porca miseria Hai ragione ma È complicato Prendere sti cosi Allora ci provo Prendilo Ok l'ha preso Ora cerchiamo di prendere Anche questo Mi raccomando Non facciamo cascare Vabbè questo non casca Dai questo lo prendiamo Sciallo Un po' di terra qua Rimettiamoci il picconazzo Alla mano Prendiamo questo Preso Perfetto Prendiamo anche questo Preso Perfetto Vabbè il carbone Non ce ne frega niente L'oro L'oro in teoria Lo prendiamo sempre Infatti L'oro al volo Lo prendiamo sempre Non si sa perché E voilà Preso Qua c'è dell'altro oro Che vado a prendermi Così inizio anche a pensare A farmi delle mele dorate Ragazzi Perché C'ho un sacco di mele E sarebbe utile Iniziare a pensare A delle probabili Oddio Lo santo No 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 Ah già ma c'ho la keep inventory Ma porca zozza Mi sono Inciaspicato In una maniera incredibile Dentonelliana E Sono caduto giù Niente Posto Ritorniamo giù Ok Sono tornato E c'è un cacchio di creeper Per fortuna non sono morto Ok Non sono morto Perché praticamente Queste isole Sono anti creeper E quindi Atturiscono pure un po' Il corpo Intanto ho buttato un po' D'oro per aria Va bene Fa niente Non ci pensiamo Dai Qua c'è qualcosa di interessante No Ah Qua c'è dell'oro Ok Era quello che stavo prendendo prima Non mi ricordo Ferro prenderlo Prendendo Prendendo Abbiamo preso Tantissimo signori Oro lo prendiamo Sciallo Attenzione a ste cose Svolazzanti E questo L'ho preso anche questo Mamma mia Mamma mia Ma chi sono Che prendo le cose al volo In un modo incredibile Cioè Sono veramente cariche Cariche di minerali Ste isolette bellissime Io le adoro Queste isolette Dovremmo andarle a visitare Più spesso Perché ragazzi Queste ti svoltano la partita Quando perdi L'armatura di ferro Come abbiamo fatto noi Per distrazione Nell'ultima puntata Ti fai una fermatina Su una di queste isolette Piccolissime E fai il carico di materiali Che non è assolutamente male Intanto il piccone Sta per morire malissimo Ma non è manco un problema Perché con tutto il ferro Che ho preso Me lo rifaccio volentierissimo Un altro E dovrei aver visto Più o meno Non è vero mai Non è vero mai Più o meno tutto No Quello è ferro Ok Andiamo a prenderci anche Col pezzo di ferro Che sta lì solitario Che svolazza Stando attenti A ste cose maledette Che ti trascinano Giù Non è per niente Ma non c'ho voglia Di rifarmi tutta la strada Anche perché inizia a diventare Un pochino distante La questione ragazzi Cioè devo farmi Buongiorno signor Zombo Ma lei che cosa ci fa qua? Signor Zombo Lei è un bastardo Porca zozza Ho appena figlio di che non volevo morire Vabbè sarei comunque dovuto tornare qua Per rifarmi un piccone Quindi manco male Dai Allora prendiamoci altri tre lingottini di ferro Questo lo buttiamo qua E iniziamo a smeltare sta roba In questo modo Perfetto Perché tu sei qua? Smelta Ok Vai con un altro piccone Sì magari se mi prendo anche Degli stichettini Male non faccio Perché il piccone Non è che si fa da solo Quindi facciamo così Così Signore abbiamo il piccone di riserva E torniamo di nuovo In quell'isolotto A distruggere tutto Per poi passare a quello successivo Che è quello lì Che secondo me Eppure meglio di quest'altro Dove cacchio sto passando Non lo so Vabbè L'importante Ah il lag Mamma mia Che cacchio di botta Di lag esagerata Ok Riandiamo Eh c'è uno zombie Che mi stava aspettando Adesso lo buttiamo giù subito E iniziamo a scavare Pure da quest'altro lato Ok Va bene così Perfetto C'è qualcosa di utile Da questo lato dell'isolotto No Piccone morto Ce ne abbiamo un altro Non ce ne può fregare meno Come diciamo noi E quindi Continuiamo Lo scavaggio assassino Ok Là si muore malissimo E anche qua si muore Evidentemente malissimo Quindi faccio una roba di questo tipo Mi lancio Sprezzante del pericolo Con la spalla di diamante in mano Che non c'entra assolutamente nulla Però va bene Io penso che non dovrebbero esserci più minerali Su quest'isola In teoria Non è vero Non è vero C'era ancora un po' d'oro Che ce lo prendiamo tantissimo L'ho preso L'ho preso Penso di sì Qua c'è qualche altra cosa A parte il carbone Altro oro Buono Buono Molto buono Ragazzi Melozze d'oro Proprio a go go Non ti bloccare La vieni Preso Penso di sì Ok Sì Dai Credo che sia finita St'isoletta Che cacchio Ok Vediamo Sì dai Dai Non c'è rimasto niente di molto utile Ok Saliamo Torniamo in superficie Non è che ci sta qualcosa di nascosto qua dentro No Sì ma perché devi rovinare la spada Razza di deficiente No Non ci sono ceste nascoste qua Vero? No Ok va bene E allora ragazzi andiamo a visitare quell'altro isolotto Che mi sembra anche molto carino Eh Devo sfasciare questo Per Non è vero Scusa Perché devo fare queste cose Fai così Sfascia qua Lo so Sto facendo delle strade un po' alternative Però non ci fate caso È tutto molto tranquillo Qua mettiamo così Qua salgo in questo modo Qua ci potremmo mettere questo blocco così Qua metto così Ok Mamma mia Sono tutte isolette molto molto piccole Molto pericolosissime Però qua vedo che ci stanno delle costruzioni C'è un letto E secondo me Eh Se dico rumore No Secondo me qua potremmo trovare qualcosa di utile Tipo una cesta nascosta Potrebbe essere tantissimo Ma perché queste isolette sono tutte devastate? Cosa è successo? Ci sarà un altro libro come nell'altra isola Che mi spiega cosa è successo? Allora Intanto andiamo a vedere Stisoletta sull'albero Che cosa mi dice? Allora qua non c'è nulla Scendiamo giù Oh c'è un jukebox Inutile come poche cose su minecraft Un letto E una cesta Allora Abbiamo il disco rotto Abbiamo un diploma Che ha sharpness 15 Che cosa mi stai dicendo? Sharpness 15? Ok inizio a preoccuparmi ragazzi Vabbè Leggiamo questo libro Tanto là si stanno generando due milioni di creeper Mamma mia il ritorno sarà drammatico Allora Quando i miei insegnanti Mi chiesero Cosa avrei voluto Quando fossi cresciuto Sinceramente non pensavo Che sarei diventato Un'eremita Che abitava Una dangling Non so che vuol dire Piattaforma Che Per essere onesti Distrugge più o meno Tutte le leggi fisiche Un po' come minecraft Fondamentalmente Disblows Non so Forse penso sia un modo di dire Comunque Vabbè Sono andato al college Per niente Effettivamente sì Perché se vai al college E poi finisci su stisolotto volante A fare nulla Non ha molto senso Però Avevi un fogliettino Con sharpness 15 Voglio dire Quindi tutta sta Sta cosa inutile Non è che l'hai fatta ragazzo Cioè almeno per me Si è stato utilissimo Perché secondo me In teoria Questo fogliettino Dovrebbe far male Cioè Sharpness 15 Ah Stavo morendo malissimo Io e le scale Siamo Ah Ti prego sali Ma che cavolo stai facendo Ok Niente Mi si era incespicato Un attimo il mouse Dicevo Penso Almeno ipotizzo Che sto fogliettino Possa essere utile A qualcosa Intanto lo prendo E Diciamo così E con molta calma Ragazzi Perché mi sto iniziando Un attimino ad inquietare Adesso Diciamoci la verità Mettiamo una torcia Ogni tanto Ok Altro ferro ragazzi Io me lo prendo volentieri Però volevo prima Osservare un attimo Se c'era qualche altra cosa Da guardare qua su Ma guarda che carina Da qua su La vista È bellissima Qui dove si va Si va Su quell'altra Isoletta Non penso sia E che cos'è laggiù Allora Quell'isoletta lì Non penso che sia Una delle isole Del monumento Perché la vedo Un po' troppo piccola Però oddio Mai dire mai Potrebbe pure essere Intanto Leviamo ste fonti d'acqua Che rompono le balle Ok Magari questa sessione Di mining La saltiamo Insomma La taglio tutta E ci vediamo Tra un po' Eh no Non è vero Ci vediamo qua Perché c'è un diamante Ragazzi I diamanti Vi li devo far vedere Quando li trovo Perché Sono eventi importanti Porca miseria Oro Oh ma no Quanto mi piace minare A me una roba incredibile Cioè Proprio la vena del minatore Guarda quanta roba che c'è Mamma mia Le soddisfazioni di questa mappa È incredibile Mi sta dando un sacco di roba Un sacco di cose fighe E secondo me Questa mappa Più andiamo avanti Più diventerà Drammaticamente complicata Diciamoci anche Che io non sto assolutamente Seguendo l'ordine del monumento Cosa che forse Sarebbe utile fare Perché magari Va avanti gradualmente Per difficoltà Invece noi magari Becchiamo il livello Più difficile adesso E ci moriamo male Non lo so Non lo so Insomma Facciamo un po' D'intuito Come ci viene di fare Facciamo ragazzi Non è un problema Intanto mi prendo Altra roba qua Quanto è profonda St'isola Abbastanza Molto profonda Quindi sarà carica Zepp A vuole questa di minerali Va bene Scavo tutto E ci vediamo dopo Ho appena perso Un blocco di ferro Porca zozza E ragazzi Altri diamanti Ma vieni Mamma mia Che bella sta roba Oh sta mappa è bella Ragazzi mi piace Mi piace trovare roba Porca miseria Ho perso anche un po' Di ferro in giro Per il mondo Ma insomma Sono dettagli Quelli Sono cose No Sono scemo Mi sono scavato sotto i piedi Non ci voglio credere Ok Niente Va bene Saliamo su In qualche modo Ok Non ci credo Sono pure salito Qua abbiamo oro Che sta ancora smeltando E altro ferro Va bene Ci torniamo dopo E intanto Io stavo pensando Di fare una cosa Molto figa Per finire questo episodio In bellezza E cioè Di andare a vedere Che cos'è Quella casetta lì giù Quindi a sto punto Io metterei un blocco qua Se ci riesco Forse ci potrei Riusci Ci potrei In teoria Ok ci sono riuscito E mi dirigo Sopra quella Perché lì c'è un'altra isoletta Che è solamente materiali Quella lì che vedete di lato Secondo me La White House Quindi già sappiamo Cosa fare nel prossimo episodio La White House Sarà fighissima E io volevo andare Ma che cosa sto facendo Non mi devi laggare Maledetto Andiamo a vedere Questa casa qua Che effettivamente È fatta molto bella Cioè Ragazzi Ci potrei quasi fa Mi ci potevo fare la base Là invece di farmela io Ma che palle Cioè C'avevo la base Già bella e fatta Non ci voglio credere Guarda È proprio una base A tutti gli effetti Cioè C'è la casa C'è l'orto C'è tutto Praticamente Là sotto E io ho passato Mezz'ora Scava blocchi Per farmi una base Ma porca miseria Io pure sono scemo Vabbè ma giustamente Che ne potevo sapere Cioè Voglio dire Ok ci siamo sopra Più o meno Più o meno Sì Ok ragazzi L'acqua è arrivata La possiamo vedere La White House È sicuramente La White House Che è molto figa E qua possiamo vedere Sto castello Mega Super gigante Che secondo me Potrebbe tranquillamente Essere il livello finale Di questa mappa Lo vedo enorme Gigantesco È anche fatto bene Però per il momento Ne ci buttiamo qua sotto Magari con la spada Le mani è meglio Magari se non muori Oh mio dio Mi ero un attimo distratto Ok Siamo su questo isolotto Molto carino Con un diamante Ancora più carino Porca zozza Mamma mia Che belli diamanti Grazie Mio Aspettate Devo vedere Se sotto c'è Il vuoto Perché ci rimango malissimo No Non c'è il vuoto Preso Ok Vabbè Poi mi metterò a scavare Qua sotto Intanto voglio esplorare Questa casa Ok Ci sono dei cartelli Benvenuto A Vineri Che cos'era Cantine Alle cantine del novizio Ok Benvenuto alle cantine del novizio Grazie Sei molto gentile No Non possiamo sbirciare Ok Saliamo alle cantine del novizio Uh Sì C'è un po' abbandonata Questa cantina ragazzi Eh Voglio dire Da quante Ah Giusto Le bacche Me l'ho dimenticato Le bacche pungono Bisogna stare attenti Allora Per me sono I ragni velenosi No Ci muoio malissimo Ci sono spawner Signori Ci sono spawner Tutto molto bello Ovviamente Io vorrei Ciao signor ragno È sempre un piacere Io rompo qua Allora Potrebbe essere Una cosa Abbastanza complicata Fare questo Eppure mi ha beccato Eppure mi ha beccato Eppure Eppure mi ha beccato Sto schifo Bene Siamo appena stati avvelenati Da un ragno Il che mi fa molto piacere Però io adesso Voglio fare una cosa No Ci arriverò Con un picconazzo Laggiù Sì Che ci arrivo Mamma mia Ma ci arrivo tantissimo Anche lui ci arriva Adesso sì Tra il veleno del ragno Le bacche che mi pungono Qua ci muoio male Ragazzi Ok È carina questa cosa Mi piace molto Questa cantina Abbandonata Devo andare a distruggere Un altro spawner Che sicuramente Starà da quest'altro lato Infatti E abbiamo rotto Anche l'altro spawner Allontaniamoci Dal creeperazzo Niente Il creeperazzo È esploso Smangiucchiamo Un altro po' di pane Signori E buttiamoci dentro Questa cantina assassina Allora avete rotto Le palle tutti Ok Va bene Basta Cos'è questo casino Qua dentro Su un po' di silenzio Signor zombie Buongiorno È sempre un piacere Vederla camminare Come un deficiente Questo è morto Tu potrei Ammazzarti Tantissimo Ah Da dove sei uscito Tu Miutti Miutti Chiudi 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 Ok Ci sono degli spawner Anche sotto L'avevo L'avrei potuto Immaginare Tranquillamente Secondo me Ci potrei morire Malissimo In questa mappa Chiamo di recuperare Un po' di vita A proposito Ma io non ho ancora Provato la potenza Disumana del foglietto Con sharpness 15 Signori Cioè magari potrebbe Essere la salvezza Ste bacche che fanno A parte piantarle Mangiatele Cos'è C'hanno più saturazione Buongiorno Posso Addosso a chi Posso provare questo Signori Addosso a te Cosa ti faccio Tu mi fai male Ovviamente Non mi pare Che io ho fatto Così tanto male A quel ragno Proviamo A questo Ok con due Madonna la quanti Ce ne stanno Oh mio dio Oh mio dio Ok due colpi Muoiono Però Posso Spammare No Adesso ci muoio Tantissimo Ci muoio tantissimo Ci muoio tantissimo Porca zozza Mangia di qualcosa La bacca è Bruttissima Raga Cioè Il problema Che abbiamo Più grande E che siamo messi Malissimo Col cibo Cioè non posso Continuare con le Pagnotelle di pano Oppure le bacche Mi serve una farm Di qualcosa Devo farmi una farm Di polli signori Per forza Perché i maiali Non ho le carote Per farli accoppiare Quindi niente Altre bestioline simpatiche A parte una pecorella Non l'ho vista E quindi non ho Non ho alternative Se non Usare i polli Allora io vorrei fare Una corsa un attimo Qua fuori Così Tanto per capire Stai calmo là Stai calmo là Un attimo Cosa c'è qua fuori Un balconcino carino Allora questa in teoria Secondo me Tempo fa Poteva pure essere Una cosa carina Una bella cantina Molto molto accogliente Poi con il tempo Hai rotto le palle Però avete rotto le palle Cioè i ragni velenosi Sono fastidiosissimi Eeeh Zio Billy Dicevo Con il tempo Secondo me Questa cantina È stata un attimo Presa di mira Da un po' di gente strana Ed è diventata Quello che è adesso Cioè un buco mortale Dove si muore male Ovviamente Allora Dove sono gli spone Perché qua ci sono altri spone Io lo so benissimo Che ci sono degli spone Cioè non mi puoi dire Che non ci sono degli spone Io posso mai sfasciare la vineria E Che cos'è Perché Quanti ce ne hai messi Porca zozza Ce ne sono 30 miliardi Di spone lì dentro Ma tu sei un folle E ti credo che sto morendo male Ok E bisogna illuminare un po' la zona Qua ragazzi E ma come cacchio ci arrivi Cioè potrebbe essere Molto 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 mortale Allora Dobbiamo giocare Un attimino d'astuzia Quindi per giocare d'astuzia Mi fate qualcosa Se vi colpisco male Ok questo è morto Senti io non ci sto Non rimanere bloccato Nella mia tele Per favore Razza di deficiente Ok Spostati Volevo bloccare un attimo Questi Così Ecco Lui l'ho bloccato Blochiamo anche qua Un attimo Per favore ragazzi Scusatemi Così almeno evito Di farli salire Questo lo ammazzo Malissimo A te ti ammazzo Malissimo Con due colpi Mamma mia Quello fa impressione Ok Ok questa mappa Per chi è aracnofobico Sarà una tortura Vederla Per fortuna Che non sono aracnofobico Però Potrei anche diventare Una porca zozza Signore Ho capito Vabbè c'è l'aragnatela Che rompe le balle Facciamo così Ok Penso che questa cosa Sto fogliettino di carta È abbastanza utile Perché lo posso spammare Cioè fondamentalmente È molto utile per quello Perché almeno posso Spammarlo tantissimo Così Ok Perfetto C'è un altro balconcino Cosa c'è qua fuori Niente Assolutamente nulla Là c'è un altro ancora Cosa c'è qua fuori Nulla E tu da dove cacchierola Sei uscito Tu da cacchierola Dove cacchierola sei uscito Ho chiuso tutto Mamma mia Questi passano Tutte le parti Raga Questi sono pericolosissimi Cioè questi ragni Sono pericolosissimi Perché passano Veramente in ogni buco Ok Ora con molta calma Io romperò qui Eccoli là Eccoli là I carognoni Che non riesco Porca zozza A toccare E questa è una cosa Molto drammatica Qualcuno poi Non ne devi buttare le torce Sei scemo Ne devi piazzare le torce Ok Ho piazzato una torce intanto Quindi un po' di luce La stiamo facendo Poi qualcuno mi deve spiegare Perché c'ho I fiori in mano E non le cose utili Tipo il piccone E adesso Proveremo a fare qualcosa Di meglio Ragazzi Ok Magari Forse era meglio Mangiare prima E mi hanno beccato Non si sa da dove Non si sa da dove Mi hanno beccato Sti bastardi Vedi perché Sono pericolosi Perché questi Ti beccano In modi stranissimi Non ci arrivo Non ci arrivo Perché non ci arrivo Ma forse A questo qua sotto Ci posso arrivare Sì che ci posso arrivare Eh Porca zozza E allora Se arrivo là Arrivo pure qua Sì che ci arrivo Benissimo E allora a sto punto Se mi metto qua Dovrei arrivare A questo Grandissimo E a quello Ok Mangia di un po' di pane Ragazzi Non ci pensare Abbiamo distrutto Tutti gli spawner Penso di sì Quindi a sto punto Posso anche liberare Un po' la zona Per far salire qualcuno Tipo Volete venire a morirci male Venite Porca zozza Venite Eh venite Mo non casco io giù Potresti morire Scusami Ma come cacchio Hai fatto a prendermi I ragnetti velenosi Di minecraft Ragazzi Sono qualcosa di Drammatico Buonasera Ho visto un ragnetto Che si sta avvicinando No Ok salve Sono il disinfestatore Che è venuto a disinfestare Questa zona infestata E non mi guardate Tutti insieme Però con calma Madonna ragazzi Se quelli si girano Tutti quanti insieme Per me È proprio la fine Per fortuna Che sono un po' stupidi Finché stanno lì su Cioè ti devi preoccupare Quando mettono i piedi a terra Perché finquanto sono Finquanto sono Per aria Non sono molto Molto attivi Ma quando mettono Piedi a terra Ti saltano addosso In un modo bruttissimo Allora qua c'è Un ricettacolo Di roba incredibile Ecco Ok Stiamo andando Molto bene Direi Molto bene Perfetto Non ci agitiamo Più del previsto Mettiamo sta roba qua E andiamo a seccare Ragnetti Così che svolazzano Felici Chiudiamo i buchi Raga perché io ci finisco Dentro Lo sappiamo tutti Che ci finisco Allora quello lì Non so se sta sul pavimento A terra Ma comunque lo ammazzo uguale Morto Morto Ciao Ciao Ragnetto Sì Stavo cadendo giù No ma più che altro Perché mi romperei le palle Di rifarmi tutta la strada Raga Ok rompiamo anche questo Ammazziamo questo Perfetto Stiamo pulendo tutto Ma qualche torcetta Ogni tanto Secondo me male Non fa E se finisco di Chiudere sti buchi Sono pure più contento Ok Somma giochiamo Un altro po signori E via Ad ammazzare gli ultimi ragni Che sono qua In questo buchetto Assurdo Sono nella ragnatela Bloccato Vero Sì Morto Morto Morti tutti No non è vero Ci sono ancora questi Aspetta Ragazzi Scusatemi Ma io vi devo far fuori Perché non è per cattiveria Quanti ce ne stanno Qua dentro 50 miliardi Ok io penso che qui Non ci troverò Non è vero White wine Vino bianco Che poi sarebbe La dragon breath Bene Perché a me mi servivano Le boccette Giusto Allora posso trovare Qualcosa di utile Qua dentro Ancora questa Che è perfettissimo Bellissimo Ottimo Qua c'è qualcosa Non posso vedere Perché devo chiudere qua Perfetto Altra Ottimo Ragazzi Stiamo andando Molto 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 Bene Non pensavo Che questa puntata Sarebbe andata così bene Pensavo di morirci malissimo E levati un attimo Dalle palle Anche tu Ok Eh ragazzi Stiamo depredando La cantina Sì ma Ci avevano dei gusti Orribili Cioè Bevevano tutti quanti Il soffio del drago Contenti loro Contenti tutti Noi con il soffio del drago Possiamo fare delle pozioni Molto interessanti Ok Mi prendo anche sta roba Rompo qua Non c'è niente Vai così Vai con lì Vai di qua Perfetto signori Perfettissimo Penso di aver finito Quasi No Dove Che cosa Cacchiaro la sto facendo Perché butto la roba così Ma perché Ok Turiamo anche questo C'è altra roba qua Bene E adesso arriviamo al punto Che più mi incuriosisce Cioè Quella doppia cesta Non una cesta Ma due cesta Cosa racchiuderanno Queste due cesta Spero tanta roba bella Sinceramente Prendiamo la nostra Carta magica Ci mettiamo qua E secchiamo tutti Proprio di velocità Ok Mamma mia Ammazza pure questi Aspetta Questa c'è la ragnatela Che rompe le balle Oh Tutto Fatto Sì Apriamo Che è sta roba Beinovantropod 5 Sweeping gauge 3 Knockback 2 Me la dai adesso Spider killer Che praticamente Ho già killato tutti gli spider Che cacchio me la dia famò Va bene Non fa niente Abbiamo la spider killer Signori Cosa abbastanza inutile In questo momento Però ce l'abbiamo E penso che abbiamo finito Da questa parte Sì Non c'è altro da fare Suppongo Ok Secondo me qua non ci stanno manco minerali Perché mi sembra che si trovi tutto su una piattaforma semplicemente di terra Infatti Dovrò scavare un po' quassù Però vabbè non importa Comunque ragazzi Per questo episodio direi che ci fermiamo qua È stata una bella avventura Insomma abbiamo fatto Quello che sembra una pseudo base Abbiamo esplorato un po' di solotte volanti E nel prossimo episodio domani Andremo a visitare la White House Che è alle mie spalle lì in lontananza In ogni caso Se questo episodio vi è piaciuto Mi raccomando ragazzi Lasciate un like Spolliciate Condividete sia il video che il canale Sui vostri social E se non l'avete ancora fatto Iscrivetevi Cliccando sulla campanellina Per restare aggiornati Su tutti i video che pubblico Per questo episodio è tutto E come sempre vi do appuntamento sul canale Per un prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi